premiazione quattrocento misti assolute victory ceremony 400 medley female consegna le medaglie il medico della manifestazione dottor alvaro caranza medaglia di bronzo per anna de feo piave nuoto 5 0 5 11 argento veronica lucchese noto l'inuoto 5 0 4 22 medaglia d'oro gold medal ghost rebecca meder sud africa 4 58 86 alla partenza la serie 10 dalla 1 all'8 gerbas orsi maso pasqualicchio zambon duplè